siamo sempre sul confine austria italia oggi ice si è preso un calcione da pioggia seguite i prossimi video che andrò a montare vedete come è andata a finire quelle due lì si lasciano a piedi vanno d'amore d'accordo abbiamo ice in ospedale vi carico un breve video di un minuto un minuto e mezzo solo per farvi vedere la scena di ice abituato ma qua in valle stai fino a settembre faccio il telefono che non ti pesca il telefono come previsto pioggia e come si chiama la tua ci sono scappate noi siamo qua in austria loro sono in italia che ridiscendono per la valvis dende ma che belle due stronze e vabbè ci voleva